23 aprile 2011, campionato di Lega Raw, prima divisione. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabi si affrontano Juve Stabia e Taranto, gara valevole per la quattordicesima giornata di ritorno. La Juve Stabia è sconvinta per 3-0 contro il Taranto di Mister Dionigi. La formazione pugliese scende in campo con la voglia di far su all'interno posto in palio, mentre la formazione Gelobri, ancora paga della vittoria ottenuta domenica scorsa ai danni della nocerina, sfotano una prestazione svogliata e leziosa. A dirla tutto, il risultato di 3-0 è stato molto pesante, se si considerano i due regni colpiti dalla Juve Stabia e tante occasioni sprecate. Nella settimana che precede la partita, Mister Braia striglia i suoi uomini, lei di esser si è abbandonati ad eccessivi festeggiamenti e li mette in guarda sulla bondà e pericolosità del Taranto, che rivoluzionata nell'organico a gennaio, ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del momento. Le Vespa scende in campo con le solute 3-4-3, a sostituzione di Di Conso, Pezzella e Merzavilla, Mister Braia inserisce nell'ordine di andare in sei molinari, per il resto manda in campo gli stessi uomini vittoriosi a nocera. Al quarto, Taranto in vantaggio, si sviluppa di un calcio di punizione, la palla arriva in aria, Girardi la colpisce di testa, Colombi ne spinge, ma Colonna nel tentativo di rinviarla, spinge nella propria rete. All'oro, Albadoro con un tiro dei suoi prova a riequilibrare la partita, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al ventinesimo, risposta del Taranto con Rantier, che da lontano prova di impenzire i Colombi, ma il suo ti riesce fuori. Al trentesesimo, la doppia del Taranto, su un calcio d'angolo battuto da Garufo e prolungato da sì, la palla arriva da Antonazzo, sponda per Girardi, che in aria piccola trafinge Colombi. Al quarantesimo, una USA, ferita ma non ancora morta, prova a reagire con Colonna, che si traveste dal rifinitore e serve una splendida palla a Bagog, che però spreca di testa il possibile 2-1. Inizia la ripresa, il mister Bragna manda in campo Tarantino per Rizza. Al quinto del secondo tempo, Tarantino crosso per Bagog, che di testa, pressata da Garufo, non inquadra la porta. Al decimo del secondo tempo, Girardi se ne va in contropiede, pressata da Scognamiglio, attende l'arrivo di sì, che ricevuta palla, batte con un preciso rossadario il portiere Colombi per il 3-0 a favore dei pugnesi. Un minuto dopo si rivede la US Tabbia, Colonna passa a Dianda, cross per Bagog, il quale di testa ancora una volta manca il bersaglio. Al diciannovesimo, ancora Bagog, di testa, manda a lato un cross di Tarantino. Al ventinovesimo del secondo tempo, la Dea Bendata dimostra di aver voltato le spalle alle Vespe. Quando Bremec scambia con Sosa, nel fraseggio si inserisce Bagog, che per poco non realizza la rete del 3-1. Al trentesimo del secondo tempo, a conferma di una scarsa fortuna delle Vespe, quest'oggi si assiste al palo colpito da Piterisi con un bollido calciato al limite dell'aria. Al quarantesimo del secondo tempo, l'ultima occasione mancata alla US Tabbia, punizione di Tarantino respite da Bremec. Sulla ribattuta, Scogliamiglio manca l'appuntamento con il gol. Dopo 5 minuti di recupero, finisce la gara, con il pubblico di Castellammare che dimostra la propria maturità ineggiata, nonostante la sconvitti proprio in Beniamini. Domenica, primo maggio, tutti a camera hanno speranza di conquistare ora più che mai, punto importante per la disputa dei pre-off. Rispetto alla squadra, in lotta per la retrocedere e che oggi ha perso per 6-0 a Rupa. Grazie. 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 Grazie.